Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono sempre io da Marina, sono di nuovo qua in Spagna e ho preso tante cose da recensire, tra cui questi bustini full of boom che l'ho preso ieri sera e quindi oggi faccio l'apertura. Allora ho preso la courte inglese, costano 3,50 euro, non chiedetemi se in Italia si trovano perché non credo che non le troverete perché ho visto che sulla bustina qua e anche dietro che ha le scritte inglese, francese, dannese, spagnolo, però italiano non c'è, non ha scritte italiane quindi non credo che le troverete. Comunque insomma recensione della bustina, allora hanno la scritta full of boom qua e una O è fatta con un uovo, non so se si vede bene, poi c'è un'applicazione che penso si scannerizza il full of boom che si trova e si può giocare sul telefono credo, poi ci sono dei furbi qua, qui c'è le stichette da corti inglese che non sono riuscite a togliere ma fa niente, dei vari furbi che si trovano e sono fatti dall'asbro. Poi qua ci sono i furbi da trovare che in totale sono 7, aspetta, no 8 scusate sono 8 furbi, qui ci sono delle immagini dei furbi, e qui lo scanner, cioè fa vedere di scaricare l'applicazione da App Store Google Play, scannerizzare il codice e poi il furbi ti viene sul gioco. Vabbè, apriamo questi bustini. Oh, che bellino! Allora, io ho trovato, adesso vi faccio vedere che è chiuso dentro a questo. Aspettate, ho chiuso dentro alla plastica qui, vedete, non riesco ad aprire. Ecco, ho trovato questo furbi qua, viola, con le orecchie gialle e una meschera per andare sott'acqua. E' molto carino, e sotto ha questo qui, che si scannerizza per metterlo sull'applicazione. C'è anche una checklist, che adesso vediamo. C'è questo qua, che non so cosa sia. E qui c'è la checklist, no, è una carta, non è la checklist, non c'è la checklist. Sono a sorpresa furbi. E' una carta col furbi, oddio, scusate, è una carta col furbi che abbiamo trovato. Però c'è checklist, non c'è. Non c'è, vabbè, andiamo con la seconda bustina. Oh, bellissimo! Abbiamo trovato questo, aspettate che apro. Beh, ho trovato questo furbi azzurro con gli occhiali da sole. Anche lui ha questo qui da scannerizzare. E questa è la carta. Molto bella. Queste sono le due carte dei furbi. E questi sono i due furbi. Sono veramente bellissimi. Bellissimi, sono bellissimi, veramente. Ne prenderò altri. E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Ciao, e al prossimo video. Ciao, ciao! Ciao! Grazie.